Allora è stato anche perfetto come intervento, non vi eravate parlati ma è andato a modo di introduzione adesso all'intervento del dottor Penna, medico chirurgo, tra l'altro esperto coinvolto anche in medicine cosiddette alternative, omeopatia, fitoterapia, spagiria, iridologia ma anche agopuntura, meditazione trascendentale, ipnosi, ha collaborato con il dottor Amer allo sviluppo e alla comprensione delle cinque leggi biologiche, ha seguito anche i corsi di formazione di Ellinger, infatti chi ha già letto il libro ad esempio del dottor Penna o ha seguito ad esempio i suoi corsi se ne sarà accorto e soprattutto da una decina di anni lavora sul rapporto esistente tra lo sviluppo di patologie croniche e le dinamiche emotive all'interno della famiglia. Quindi parleremo anche di questo e vi ricordo che il suo libro ti permetto di far parte di me, edito proprio da uno editori, lo potete trovare all'entrata quindi chi non l'avesse ancora letto può insomma rimediare, prendere una copia magari avremo anche tempo dopo di un autografo, di una dedica. Quindi grazie e adesso la parola al dottor Penna. Allora, mi emoziona un po' parlare dopo di lui. Parto da una mia esperienza personale. Tantissimo tempo fa quando iniziai a lavorare come agopuntore, come omeopata, fui molto influenzato dalla scuola tedesca. La scuola di omeopatia tedesca e francese usavano molto sul principio delle intolleranze alimentari, quindi dedicavano tantissimo spazio all'igiene personale e all'alimentazione. per cui anch'io per anni ho collaborato anche con il dottor Speciani di Milano, quindi il DRIATEST, facevamo questi test delle intolleranze alimentari ed effettivamente modificando l'alimentazione delle persone ottenevamo dei grandi risultati. Per mia fortuna io però probabilmente per deformazione mia professionale o forse più che altro per deformazione mia comportamentale, non guardavo i pazienti soltanto come delle macchine di malattie, ma cercavo anche di guardarli un po' come anche ha fatto il mio collega, ed è forse la chiave che ci ha differenziato dalla medicina ufficiale, di guardare queste persone anche proprio come esseri viventi, come esseri viventi all'interno di un sistema, quindi all'interno di un sistema familiare. E notavo che andando a modificare le intolleranze alimentari, a volte miglioravo la loro stato di salute fisica, ma entro 6-8 mesi, quindi prima di rifinire del ciclo animale, loro ritornavano con altre intolleranze alimentari, quindi praticamente era un rincorrere all'inverosimile, allo spasmo delle intolleranze che loro sviluppavano in continuazione una dietro l'altra. La cosa più simpatica che notai è che le intolleranze che loro sviluppavano erano sempre le stesse in funzione della dinamica familiare che loro vivevano all'interno del nucleo familiare, quindi piano piano iniziai a concludere che le intolleranze alimentari erano direttamente proporzionali al tipo di vita che loro vivevano, agli stress ambientali che loro subivano. E quindi iniziai a ragionare che il cibo, per il nostro animale, un po' come ha detto Berrino Franco prima, il cibo in realtà è un atto terapeutico. Chi ha avuto degli animali domestici avrà notato che l'animale carnivoro, orbivoro, a seconda delle situazioni cambia in maniera completa e antitetica la sua alimentazione. Quindi da erbivoro diventa quasi carnivoro e da carnivoro diventa quasi erbivoro. Questo però non lo fa perché di disturbi comportamentali, ma lo fa perché l'ambiente circostante lo ha messo in una situazione critica. Per cui ho iniziato a parlare di intolleranze alimentari, e ho iniziato da intolleranze alimentari a parlare di indici metabolici, ho iniziato a ragionare che il cibo in realtà è un atto terapeutico, quindi in realtà noi abbiamo un rapporto istintivo permanente e continuo col cibo. Per cui non scegliamo un certo tipo di cibo in funzione del desiderio ragionato, se così vogliamo dire, ma scegliamo il cibo in base a una necessità biologica molecolare terapeutica. Quindi quelle che noi nella scuola tedesca e scuola francese e in parte nella nostra scuola italiana chiamavamo intolleranze alimentari, in realtà era una scelta istintiva di un determinato cibo per poter compensare a livello biologico una disfunzione oggettiva concreta, ossia facciamo ancora un esempio. Provate a immaginare che il cibo diventa un atto terapeutico, io sono un ansioso, prendo degli ansiolitici. L'uomo nell'arco dei suoi 30-40 mila anni non aveva giustamente la farmacia con gli ansiolitici e quindi l'uomo che cosa ha fatto? Ha iniziato a studiare o ad assimilare istintivamente la scelta di determinati cibi che potevano aiutarlo o non aiutarlo a superare una determinata situazione. Negli anni, per mia fortuna, conobbi anche il dottor Hammer e col dottor Hammer iniziai a comprendere ciò che erano patologie in fase di conflitto attivo e patologie o manifestazioni cliniche in fase di soluzione di un conflitto. Iniziai a constatare che tutte le patologie che inducono le intolleranze alimentari in realtà sono manifestazioni cliniche della fase di guarigione di un conflitto attivo. Facciamo un esempio storico. Ammettiamo che io ho subito tutta una serie di conflitti nella prima parte della mia vita, quindi tra il primo e il secondo anno. L'alimento base del primo e il secondo anno che cos'è il latte. Quando noi abbiamo un conflitto attivo di incapacità di comunicazione con nostra madre o con determinate situazioni della nostra infanzia, questo tipo di patologia tendiamo a scaricarlo su due organi fondamentali che sono il colon e la pelle. Guarda caso la medicina tradizionale cinese, il colon e la pelle, li mettono all'interno dell'unico metallo, uno dei cinque elementi, i famosi cinque elementi dell'agopuntura. C'è un elemento che si chiama metallo. Questo metallo ha l'elemento polmone, ha l'organo del colon e lo stato di salute del colon e del polmone si manifestano attraverso la pelle. Quando questa persona che è in conflitto attivo con una fase storica dei primi anni della sua vita e beve il latte, combinazione o va in diarrea o gli si manifesta un eczema sulla pelle. Togliendogli il latte lui non andrà più in diarrea e avrà un miglioramento sulle patologie della pelle. Noi andiamo a vedere Amer, Amer ti dice che quando noi abbiamo un conflitto che scarichiamo sull'intestino, in fase di guarigione noi andiamo in diarrea. Allora io inizio a ragionare, ma una persona che è intollerante al latte, devo togliergli il latte o chiudergli il conflitto? E qui è venuto ovviamente un dilemma terapeutico e diciamo deontologico comportamentale di medico estremamente importante perché notavo che questi personaggi togliendogli il latte uscivano dal mio studio con due problemi perché loro il latte lo amavano e istintivamente lo cercavano. Dall'altra parte però avevano tutti i loro disturbi quindi quando uscivano da me io praticamente gli mettevo uno stress in più cioè non mangiare il latte. Allora lì ho iniziato a ragionare esattamente al contrario perché devo aggiungere degli stress alle persone. Ho detto tu mangia secondo istinto ma andiamo a lavorare sul conflitto comportamentale o su ciò che non hai perfettamente superato della tua infanzia. La cosa ridicola è che quando io andavo a modificare con dei prodotti omeopatici, fitoterapici o ad esempio una tecnica che avevo escogitato che la chiamavo il sogno guidato, quindi una forma di autoipnosi per cui il paziente regrediva nel suo passato andava a modificare il suo passato e ritornava nel presente. Questi personaggi non solo miglioravano la loro conflittualità, la loro situazione di vita e di relazione in casa ma la cosa particolare è che non gli piaceva più il latte, non avevano più l'attrazione alimentare verso il latte. Questo conferma che loro utilizzavano il latte non perché gli piaceva, ma utilizzavano il latte perché il latte era una terapia, era un farmaco. Io mi ricordo quando iniziai a lavorare con la scuola tedesca, avrete sentito parlare del moratest, questi apparecchi elettronici e io mi andai a leggere il libro di questo medico di Morel e Morel ovviamente con questa macchina aveva scogitato tutte le fiale test per trovare l'intolleranza alimentare. E lì il libro di Morel mi mise subito una pulce nell'orecchio perché il Morel stesso nell'arco dei suoi 40 anni di attività medica constatò che nella quasi totalità dei casi il cibo verso cui la persona è intollerante è il cibo che lui è più attirato. Quindi lui aveva scoperto che bastava fare una domanda semplicissima al paziente e nove volte su dieci ci azzeccava, cosa è che ti piace di più mangiare? Il cibo che lui diceva quando andava a fare il test trovava che era intollerante. Quindi cosa vuol dire? che quello che noi abbiamo sempre considerato un'intolleranza in realtà è una ricerca istintiva di un atto terapeutico. È come se noi chiedessimo a un gatto ma quando mangi quell'erba lì, vomiti? Sì, vedi ti fa male. In realtà lui la mangia per mettere a posto l'intestino. Se noi non gliela facessimo più mangiare svilupperebbe un tumore. poveraccio. Vi racconto una storia simpatica che in un congresso raccontai e andarono tutti in crisi. È un nome che non mi ricordo mai, i nomi giapponesi non mi ricordo mai. Io idiosincrasia. Il padre che ha fondato la Macrobiotica che era un personaggio mitico perché questo era un personaggio, e qui entriamo poi nel tema della mia conferenza, era un personaggio di una vita privata molto particolare. Ha vissuto tutta la vita insieme a sua madre. Non ha mai avuto una vita di relazione sua se non molto blanda. Aveva una madre molto dispotica. Molti nostri parlamentari sappiamo che erano queste madri. Aveva una madre che gli diceva ovviamente cosa doveva fare. E quindi lui ha obviato in che cosa? Quello è il rapporto principale col cibo. Proviamo a immaginare per un attimo che cos'è il cibo. Qual è il movimento verso il cibo primordiale? Qual è il nostro cibo primordiale arcaico? Cioè quello che ci dà l'imprinting, l'impronta da cui poi noi partiamo e da lì andiamo. Voi immaginate, regredite fino a quando siete una cellula. Che cosa mangia quella cellula? Mangia della sua madre. Quindi qual è il rapporto che noi abbiamo con il cibo? Emotivamente il rapporto col cibo il rapporto con il nostro madre. Quindi lui cosa faceva? O eliminava la madre o iniziava a studiare un rapporto col cibo. Quindi lui non poteva mangiare ciò che gli veniva messo nel piatto. Lui ha iniziato a studiare una filosofia per poter controllare la madre attraverso il cibo. La cosa bellissima di questo personaggio, e Hammer poi me l'ha spiegato, che è questo personaggio pochi anni dopo che è morta la sua madre, lui è morto di carcinoma allo stomaco, che è stato un enigma. Io mi ricordo quando avevo letto questi libri perché nessuno di quelli che lavorava nella macrobiotica poteva spiegare. Dici ma com'è questa roba? Questo ha sempre mangiato bene, fuori raggio e morto di cancro allo stomaco. Anche qui tu prendi la medicina tradizionale cinese e la medicina tricinese ti dice che l'organo più madre è lo stomaco. Hammer spiega che in fase di conflitto attivo noi sviluppiamo un certo tipo di tumore che è nella grande curva dello stomaco. In fase di guarigione noi se abbiamo un conflitto nello stomaco sviluppiamo un altro tipo di tumore che è nella piccola curva dello stomaco, quello che ha colpito questo personaggio. Quindi morendo la mamma lui finalmente ha risolto. Bello no? Io mi ricordo molti personaggi che sono venuti da me che avevano giustamente dei conflitti molto potenti nei confronti della madre. Andando a risolvere il conflitto con la madre loro modificavano il tipo di alimentazione, ma modificavano anche la funzionalità dell'apparato gastroenterico. Perché? Perché l'apparato gastroenterico è collegato a tutto questo. Ok? È uno dei primi organi che compare nella nostra funzione embriologica, nella nostra vita embrionale. Nelle mille cose che per mia fortuna sono riuscito a fare, per tanto tempo come tutti noi penso negli anni 80 ero interpato di informatica, per cui anch'io mi comprai dei computer, cercai di capire come funzionava il linguaggio base, che iniziai a farmi anch'io dei piccoli programmini di matematica, i primi algoritmi. E nei vari libri che avevo letto per capire come funzionava un computer, c'era un'immagine bellissima che era quello che il computer era come un armadio pieno di scaffali e lui collocava tutte le informazioni dentro questi scaffali, per cui lui era metodico e preciso e quindi lui funzionava solo se gli davi dell'informazione giusta, perché un oggetto a metà dello scaffale per lui era inaccettabile, quindi dovevi dargli degli ordini estremamente precisi. Questa immagine mi fece ragionare sul concetto dell'archetipo junghiano che anche il nostro cervello è un ammasso di armadi, di scaffali e all'interno di ogni scaffale c'è una funzione vitale. A ogni funzione vitale noi possiamo associare un piano emotivo. Quindi il nostro corpo cosa farà? Vivrà tutta la vita quella determinata cosa associata a un piano emotivo. Le principali imprinti, soprattutto quelli più arcaici, noi li sviluppiamo durante la vita embrionale, perché nella vita embrionale noi veniamo a contatto di tutta una serie di immagini e di funzioni emotive. Noi quando siamo nella fase embrionale non abbiamo la capacità razionale, ma abbiamo soltanto una capacità emotiva, per cui noi come animali tendiamo ad avere un rapporto con tutto ciò, con tutto l'ambiente che sta intorno a noi emotivo. Per cui io ho visto che le persone che tendono, ed è anche parte dell'argomento di oggi, a sviluppare patologie croniche, vivono sempre in difesa. Cioè è successo, è accaduto un qualcosa, come l'esperimento che lui ha raccontato, anzi esperimento, purtroppo non è stato un esperimento, è stata una realtà vissuta delle donne olandesi, che nel momento in cui noi viviamo una determinata esperienza, forte o non forte, durante questa fase embrionale, questa potrà emotivamente nel tempo in parte condizionarci. Ma sovente non è un qualcosa che noi abbiamo vissuto direttamente, ma è un qualcosa che noi abbiamo vissuto indirettamente. A livello biologico ho provato a pensare tante volte che cosa vuol dire essere un embrione nella pancia di nostra madre. È una realtà biologica e medica che ancora oggi non riusciamo a spiegare, che biologicamente ci potrebbe essere un'incompatibilità totale tra la madre e il figlio. Però all'interno della pancia della madre in realtà non avvengono reazioni di incompatibilità istologica. Cioè il bambino, anche se è completamente diverso dalla madre, però viene accettato. Quindi avviene un qualcosa che in teoria per noi medici è impossibile. E quindi che cosa significa questo? Che il feto all'interno della madre viene accettato come un organo della madre. Quindi quando noi siamo dentro la mamma, dentro nostra madre, noi di fatto siamo e viviamo come un organo della madre. Ok? Siamo un tutt'uno con nostra madre. Quindi tutto ciò che emotivamente prova nostra madre per noi è normale. Perché noi facciamo parte di quel sistema. Non iniziate a comprendere? Cioè se voi andate da un lupo e dici ma secondo secondo te è normale o non è normale mangiare le galline? Lui ti dice sì. E voi avete un bel idea di dire ma no guarda è meglio che mangi qualcos'altro che le galline. Cioè lo mettete a disagio. Ok? Perché per lui è normale. Perché lui è un lupo, fa parte dei lupi, quindi fa tutto ciò che per lupo è normale. Se noi siamo un organo di nostra madre, per noi è normale tutto ciò che ha fatto, non ha fatto, provato e non ha provato la nostra madre. È normale. Non iniziate a comprendere? Entrate nel mio ragionamento. Voi dite cosa serve questo? Serve. Perché io come faccio a sganciarti da lì? Allora noi sappiamo che questa informazione, cioè il mondo di nostra madre, diventa l'imprinting di tutti i nostri movimenti. Ok? Noi siamo lì. Voi immaginate che voi iniziate per cultura, perché avete deciso, di cercare di togliervi da questo schema. In automatico dentro di voi, come in un computer, parte un'informazione contraddittoria. Ok? Perché lui non sa più da che parte stare e dove mettersi. Ok? E quindi quale diventa l'atto terapeutico? L'atto terapeutico che io faccio fare ai miei pazienti è permettere a nostra madre di essere ciò che è. Nel momento in cui io permetto mia madre di essere ciò che è, io non ho più intolleranza alimentare. Lo percepite? l'intoleranza alimentare è dovermi difendere da ciò che mia madre mi ha dato. Lo percepite? Perché è stato vissuto come un pericolo. Nel momento in cui io questo non lo vivo più come pericolo, lo lascio entrare, supera la barriera dello stomaco, entra. Quindi non è più in intolleranza. Lo capite? Metto la barriera, tolgo la barriera. C'è stato degli anni che avevo impostato le conferenze. Quando ci avvicinavamo, quelle autunnali, andando verso l'inverno. Chiudevo sempre le conferenze, era un esperimento, poi invitavo le persone in primavera a raccontarmi che cosa era successo. E dicevo, mi raccomando, il freddo è fastidioso ma non pericoloso. Quindi ho detto, tutte le volte che provate freddo, dite, fastidioso ma non pericoloso. Quando ci ritrovavamo in primavera chiesi, avete avuto più o meno influenze. E tutti mi dissero meno. Perché non c'era la paura, c'era l'accettazione. Lo capite? Per cui vi dite, che cos'è il processo infiammatorio? È un processo di difesa. Che cos'è l'intolleranza? È un processo di difesa. Che cos'è l'indigestione? È un processo di difesa. Lo capite? Che cos'è la diarrea? È un processo di difesa. Che cos'è l'exemma? È un processo di difesa. E se non mi difendo non li hai. Lo capite? Sembra banale, no? È l'uovo di colombo. Quindi qual è il rapporto corretto col cibo? Il rapporto col cibo è permettere al cibo di essere ciò che è. E qual è il nostro rapporto tra noi e il nostro madre? Perché il cibo fondamentalmente è il rapporto tra noi e nostra madre. Ma quando noi eravamo nell'utero di nostra madre, il rapporto tra noi e nostra madre non era tra noi e nostra madre, ma era tra nostra madre e sua madre. Provate a immaginare per un attimo. è biologia, eh ragazzi? Non è in filosofia, è biologia questa. Perché quando metti sotto il piano della persona, la persona te lo dice. Se io sono un organo di mia madre, provate a farvi la riflessione. E uno vi chiede, chi è tua madre? Tu dirai quello che sta dietro, no? È la nonna. Lo capite? Quindi il discorso del rapporto tra noi e cibo diventa questa accettazione di una situazione all'interno del nucleo familiare da cui noi deriviamo, che è quella cosa che raccontava lui delle donne olandesi o dei topolini. Adesso stiamo iniziando a vedere che questi topolini per generazione riportano questo. Voi immaginate che mia nonna ha avuto un brutto rapporto con sua madre. Geneticamente cosa dirà a sua madre? Stai attenta a tua madre perché mia madre mi ha fregato. E l'ha detto ok. Quindi mia madre dirà a me, stai attenta a tua madre perché mia madre mi ha fregato. Io cosa dirò a mia figlia? Stai attenta a tua madre perché mia madre mi ha fregato. come i topolini. Come faccio a interrompere la catena? Mi giro verso mia madre e le dico scusa. Era tuo diritto andare in crisi con tua madre. Sei e sarai sempre mia madre. Interrompo la catena. Allora io darò un messaggio diverso a mia figlia. Ho avuto problemi con mia madre ma nel tempo piano piano l'ho capito. Stai tranquilla figlia mia. Accadrà anche a te. Ho iniziato a percepire? non vado sul cibo. Ma vado sulla informazione emotiva che noi trasmettiamo. Ci ho lavorato anch'io tanto col DNA. Io ovviamente non ho avuto la fortuna di Franco di lavorare dentro i laboratori. Ho fatto tutto in maniera privata studiando e vedendo migliaia di casi clinici all'interno del mio ambulatorio. E ovviamente lavorando anche ragionando molto da informatico. Quella è la caratteristica di un computer che deve avere tanta memoria disponibile per mettere dentro delle informazioni. Per cui dal mio punto di vista da subito io già prima del 2000 iniziai a comprendere che quello che loro chiamavano DNA spazzatura era in realtà una struttura elettromagnetica all'interno del quale noi ci potevamo mettere delle informazioni e le possiamo passare al figlio. Quindi tutto il mio emotivo nel momento in cui stacco questa cellula e la do al figlio per crearsi e nascere in automatico lì dentro ci sono tutte le mie informazioni. E queste andranno avanti all'infinito. Se voi prendete il DNA e ogni generazione lo dividete per due, quindi partiamo da me, 50%, 25%, 13%, circa 11%, 7%, vai a diminuire. Tra la settima e la nona generazione arriva intorno a zero. Tutte le antiche religioni ti parlano di 7 e 9 generazioni. Perché? Perché la nona generazione arrivi a un numero che è statisticamente non più accettabile. Cioè lo 0,01. Quindi se io modifico me allo 0,01 ho una modificazione non statisticamente accettabile. Cioè non se ne accorge nessuno, ma non me ne accorgo nemmeno io. Quindi il DNA fondamentalmente che cos'è? E' una struttura che serve per trasmettere non solo la struttura oggettiva, ma per trasmettere l'emotività. Per cui dal mio punto di vista come medico noi siamo macchine telepatiche emotive. Cioè noi lavoriamo e la nostra evoluzione è trasmettere l'emotività. E come già lui ha enunciato prima, noi possiamo questa emotività modificarla. Perché? Perché è un nastro magnetico vuoto. Non è un nastro magnetico fisso. È un nastro magnetico vuoto che io posso resettare e riscrivere. Io posso andare indietro e modificare non un vissuto, ma l'emotività di un vissuto. Posso permettere a mia madre di essere andata in dubbio durante la mia, durante la sua gravidanza. Molti pazienti vengono da me e dicono, sai io sono un figlio non accettato. Perché sai ho scoperto che non mi volevano. Ok, prendiamola per buono. Se io accetto che mia madre è andata in dubbio, avrò più o meno energia. Voi provate a immaginare, come vi dicevo prima, quell'informazione in ogni caso ce l'hai dentro. Lo capite? È il concetto dell'intolleranza alimentare. Quell'informazione ti arriva, in ogni caso tu ce l'hai dentro, perché per nove mesi sei stata dentro una donna che è andata in dubbio. E adesso cosa fai? La combatti? È tua. E la mia informazione è quello che io ho vissuto. Se io dico di no, svilupperò un atto di difesa. Se io dico di sì, non produco difesa. Lo iniziate a comprendere? Quindi se io dico di sì, madre mia era tuo diritto, automaticamente questa si scioglie. C'era mio nonno che diceva, lo trasformi in una cosa utile. Lo capite? Se io pongo resistenza, in ogni caso, anche se fosse stata utile o non utile, dal mio punto di vista non è più utile. Lo iniziate a comprendere? Quindi, cosa sono le malattie croniche? Le malattie croniche sono figlie, io ho visto, di una situazione di vita non accettata. Tutto ciò che io non accetto e rifiuto di un qualcosa vissuto da me o dai miei antenati, è come se partisse un timer. È solo questione di tempo. La prima volta che piove, la prima volta che le ruote lisce, la prima volta che nevica, la prima volta che fa freddo, io cado. Quindi se tutto è lineare, va bene, il primo stress io cado. Perché? Perché sono più le cose che io non accetto che quelle che accetto. Quindi io vivo sempre come in una situazione di infiammazione permanente e continua. Quindi la prima cosa che va al di fuori del mio seminato io cado. Vi è chiaro questo? Ok? Questa è la prima parte, cioè quello che io ho compreso. Tre anni ho lavorato e ho iniziato a comprendere che non esistono intolleranze alimentari e che il rapporto col cibo è fondamentalmente il rapporto con la madre. Ovviamente la ricerca continua. Tutto questo mi andò bene fino al 2010-2012. Dal 2010-2012 iniziai a lavorare, a fare le costellazioni familiari, queste famose dinamiche familiari in maniera molto più approfondita, molto più particolare. Aumentava anche la mia esperienza, la mia voglia di novità anche a volte. Iniziai a rendermi conto che mi mancavano dei particolari. Sono ancora in tempo? Mi mancavano dei particolari. O meglio, non tutti i pazienti che mi venivano con delle problematiche gastrointestinali importanti o delle problematiche alimentari importanti, non tutti riuscivo a tirarli fuori. O facevo fatica. E quindi mi sono trovato dei casi particolarmente estremi, dove mi resi conto come ricercatore che mi mancava un elemento e mi imbattei combinazione in un lavoro fatto da altri colleghi, che però notai subito l'importanza, che è il concetto della sindrome del gemello scomparso. Che cos'è la sindrome del gemello scomparso? Praticamente anche qui è una favola che ci hanno raccontato per anni, penso anche tu Franco l'avrai sentito, che noi umani produciamo, la donna produce solo un uovo, un ovulo, e noi maschi produciamo 5 o 6 miliardi di spermatozoni. Però come uno entra lì dentro, trac, tutto il sistema ipsofatto si ferma. E queste due ovaie sono perfettamente in accordo, produrre solo un ovulo e non capita praticamente mai che invece ci siano altri fattori. E noi abbiamo per 70-80 anni creduto a questa favola. In realtà poi con le gravidanze assistite e quindi con l'invenzione di ecografi sempre più perfezionati siamo arrivati a scoprire che in realtà le cose non vanno così. Non è assolutamente detto che la donna produca un ovulo solo e non è assolutamente scontato che soltanto uno spermatozoa entri dentro un ovulo. Ma si è visto che nel 30-40% dei casi le gravidanze partono con più di un bambino. Ma nell'arco del primo o secondo mese la placenta seleziona quale dei feti, quale di questi embrioni portarli avanti o no. Quindi uno va avanti, gli altri vengono riassorbiti. Questa cosa voi direte cosa c'entra col cibo? C'entra. Perché iniziai a constatare che anche queste sono degli imprinting, degli imprinting che possono rimanere dentro il nostro cervello. E questi signori che avevano iniziato a constatare, scoprire la presenza del gemello, iniziarono anche loro a constatare, lo iniziai a constatare anch'io insomma dal 2012 che raccolgo dati, che effettivamente chi ha vissuto questo tipo di esperienza dentro l'utero ha un carattere diverso dall'altro. Tendenzialmente chi sopravvive a una sciagura tende per comportamento umano a sviluppare un senso di colpa verso chi è morto, verso chi è mancato nell'incidente. Questa cosa era stata vista per la prima volta nei Naufrighi nel 1800, quando si iniziava a fare anche uno studio analitico comportamentale delle persone e si era visto che tendenzialmente chi sopravviveva a un naufragio tendevano nell'arco degli anni a diventare dei depressi, cioè sviluppavano un senso di colpa importante nei confronti di quelli che erano mancati. Molti di questi autori, come me, abbiamo iniziato a constatare che chi ha la sindrome del gemello scomparso tende a sviluppare un senso di colpa verso il gemello che è mancato. La cosa tremenda cos'è? Che però nessuno ha la coscienza razionale del gemello scomparso. Quindi molti di questi personaggi sono quelli che vengono da me e mi dicono classicamente la frase, quando provo piacere, quando le cose mi vanno bene, tendenzialmente mi sento in colpa, come se rubassi qualcosa. Questi personaggi gli vai a fare tutti i test contro test eccetera eccetera, ho una tecnica che sto cercando di analizzare, prima o poi insomma arriverò a delle conclusioni, che rimane anche una macchia nell'iride, chi studia l'irideologia lo sa. Rimane una macchia particolare nell'iride, quindi osservando l'iride e facendo parlare il paziente possiamo arrivare a dire addirittura da che parte era il gemello, quindi se ero più a destra, più a sinistra, se ero sopra o sotto. E da qui costruire tutta la cosa. Qual è il pasticcio del gemello? Che abbiamo visto che molte volte la sindrome del gemello scomparso può modificarci su due piani comportamentali estremamente importanti. Uno è nella vita di relazione perché siamo noi e l'altro. Due, e qui lo shock che stiamo iniziando a lavorarci sopra, è il rapporto col cibo. Perché? Perché noi mangiamo l'altro. Lo capite? È una cosa molto importante perché il rapporto tra noi e il nostro fratello. Lui piano piano viene sciolto, va in collicoazione. E quindi piano piano noi lo assorbiamo. La placenta lo riassorbe. È un filtrato. Lo capite? Sono memorie ancestrali. Quando noi siamo poco più di un embrione. Non abbiamo ancora la corteccia cranica. Quindi non abbiamo coscienza di ciò che sta avvenendo dentro e a fianco di noi. È una percezione emotiva. Da questo tipo di situazione noi possiamo sviluppare o la bulimia o l'anoressia per senso di colpa. Lo capite? È importante. Per cui stiamo facendo tutta una serie di lavori e di ricerche per andare a lavorare e visualizzare questa immagine. Quella che Hellinger dice io resto. È come se io guardassi il mondo e prendo il coraggio dentro di me e dico resto. Facciamo un gioco? Ok. Vi invito tutti a mettervi in una posizione comoda senza incrociare le gambe e senza incrociare le braccia. Vi invito chi ha gli occhiali a toglierli. E vi invito piano piano a socchiudere gli occhi e portare lentamente l'attenzione al vostro respiro. provate a immaginare quest'aria che entra e esce dal vostro corpo. Bravissimi. E ogni respiro permettete al vostro corpo di rilassarsi, di godersi questo momento. siamo un gruppo di persone tutte con la stessa intenzione. Non c'è pericolo. Siamo in un luogo protetto. Potremmo essere simbolicamente tanti bambini dentro un utero. È un simbolo. protetto. Ogni persona che sta al vostro fianco potrebbe rappresentare simbolicamente il vostro gemello. Sono il 40% della popolazione. Vuol dire uno su due. Potremmo esserlo tutti dentro questa stanza. E provate per un attimo con tutta la fantasia che avete di essere lì al caldo dentro vostra madre. E percepite la presenza dell'altro. Non c'è bisogno che lo toccate. Se lo toccate va bene lo stesso. È uguale. E percepite la presenza dell'altro. ognuno ha il suo destino. Ognuno deve fare ciò che deve fare. E voi immaginate che vostro fratello o vostra sorella vi guarda e vi dice prendine. Prendine e mangiane. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per te. Fallo in memoria di me. Che ti vada bene. ora lasciate scorrere questa emozione dentro di voi. Immaginate che lo accogliete e lo lasciate a entrare. Non ci sono alternative. La placenta non può dare da mangiare a tutte e due. Se si nasce troppo piccoli il rischio è che si muore. È un rischio inutile per nostra madre. È un rischio inutile per noi. Uno dei due deve andare. E allora immaginate che siete lì davanti a vostro fratello e vostra sorella e dite. Sei tranquillo. Io resto in memoria di te. Io resto. Vivrò, godrò e mangerò anche in memoria di te. Senza paura. Per amore. Te lo devo. bravissimi. adesso piano piano iniziate a muovere di nuovo il corpo. Le dite, i piedi, le gambe. E quando volete voi riaprite gli occhi. Io mi sono sempre chiesto il significato della comunione. di questo passo simbolico del Vangelo. E quando ho studiato e ho scoperto questa cosa del gemello l'ho capito. È un imprinting. È un'impronta biologica che abbiamo tutti. Per cui questo movimento che noi chiamiamo religioso entra dentro di noi, dentro tutti noi, perché probabilmente lo abbiamo vissuto realmente. Perché Gesù chi rappresenta simbolicamente è il fratello che muore per noi. è un'immagine religiosa o biologica. È la stessa cosa, fregatene. L'importante è che lo fai in memoria di lui. Senza senso di colpa. Senza paura. Ma ti lascia andare. Perché è una cosa che abbiamo già dentro? Mi devo difendere? O l'accolgo? L'accolgo. Tanto l'ho già vissuta. L'ho percepita? Io mi ricordo che c'era stata un'epoca che dovevo decidere se lavorare in ospedale e iniziare a lavorare privatamente nel mio ambulatorio e quindi licenziarmi dell'ospedale e lavorare solo più come omeopata, privato, come agopuntore. E quindi dovevo decidere se lavorare da in piedi, lungo l'ambulatorio dell'ospedale, oppure lavorare da seduto dietro in una scrivania. Era il 92-93. Avevo 23 anni circa, cioè 33 anni. Ed ero abbastanza attormentato perché non sapevo fare. Era anche un problema commerciale. C'era anche una questione di denaro. Non ero ancora... ero agli inizi, quindi non avevo tutti questi pazienti. E un bel giorno, facendo una gara in mountain bike, caddi rovinosamente e mi trovai un piede girato al contrario. La prima cosa che feci quando mi trovai coricato per terra, anzi mi tirai su, avevo un piede dritto, cioè la gamba era dritta ma il piede era girato al contrario. avevo rotto tutti i legamenti della caviglia. Guardai la caviglia e le chiesi scusa. Non è gonfiata, non mi ha mai fatto male. Il chirurgo che mi operò mi disse non camminerai più. E sono passati un po' di anni. Perché? Perché ho accettato che fosse andata così. l'avete capito? Ok. Quindi è un'informazione che in ogni caso ti arriva. Tu introduci il cibo e adesso cosa fai? Lo accetti. Vi è chiaro? È una realtà. E accettare che le cose sono andate come sono andate. C'è un motto biologico che dice che ogni sistema biologico fa il massimo col minimo sforzo. Cosa vuol dire? È una legge dell'entropia, non dell'energia. Cioè i sistemi biologici fanno in modo di ottenere più che possono succhiando meno energia che possono dall'ambiente esterno. Quindi che cos'è un sistema biologico? Il sistema biologico è tutte le persone. Quindi cosa sono mio padre e mia madre? Un sistema biologico. Potevano agire diversamente? No. Perché se avessero agito diversamente avrebbero dato un risultato energetico minore con un consumo maggiore dell'ambiente. Perché anche loro hanno fatto il massimo col minimo sforzo. Quindi il mio motto è se fosse andata diversamente sarebbe stato sicuramente peggio. Quindi nel dubbio accetto che sia andata così. Ok? Grazie. 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 Grazie.